Mi preoccupa di più il mal di denti, ha detto Gian Antonio D'Are, a chi in mattinata lo ha avvicinato per chiedergli conto della possibile espulsione dal partito, dopo quel cretino rivolto al leader Matteo Salvini, offesa giustificata come uno sfogo anche nel corso di una telefonata Focus con il direttore Luigi Baccialli. A Godega di Sant'Urbano, per l'antica fiera, un po' più defilato del solito, D'Are ha comunque ostentato sicurezza tra i suoi, salutando i colonnelli del partito, presenti in gran numero, per poi andarsene prima degli interventi ufficiali e del taglio del nastro. Sul palco era atteso pure lui. Di certo c'è stato un saluto con il Godeghese numero uno, che però si tiene lontano dalla mischia. Ha incrociato D'Are questa mattina? Sì, sì. No, ce l'ho salutato e basta. Ma avete solo queste robe? Parlate di agricoltura. Ma sotto procedimento per... Non so nulla, guarda, non ne so nulla. D'Are si sarebbe confrontato con lo stesso segretario provinciale Coina, accettando tutte le conseguenze di un eventuale procedimento azionato da Via Bellerio, con il portavoce di Salvini che interpellato dice che il segretario non ha letto nulla. L'atteggiamento di D'Are, dice chi lo conosce bene, sarebbe quello del padre nobile, che vuole dare una scossa al partito, a rischio di mettere fine a una storia politica iniziata in Liga negli anni Ottanta. I più maligni dicono invece che c'entri qualcosa una possibile mancata ricandidatura a Bruxelles. Speculazioni a parte, si invoca una ricucitura. Tony fa parte della storia del nostro partito e spero che si riesca a trovare una soluzione a questo spiacevole inconveniente che è successo sulla stampa. Penso sia il momento di concentrarci sul fatto che gli avversari sono fuori dal partito, non sono all'interno. Un'eventuale uscita indotta autonoma di D'Are dalla Lega potrebbe innescare un effetto domino immediato, ripercussione numero uno, il rinnovo amministrativo a Vittorio Veneto, con la costituzione di una lista civica e relativa a corse in solitaria sindaco, che potrebbe togliere voti a Gianluca Posocco, candidato leghista naturale per quanto non ancora ufficiale. La partita è aperta con alcuni pezzi da 90 della Lega che però sembrano scaricare D'Are. Il dibattito interno va bene, poi è l'anima anche della democrazia, non va bene però quando si scivola su condefinizioni che sono offensive. Quindi è una posizione un po' complicata quella di D'Are, bisognava essere un po' più prudenti, voglio dire, nel rispetto di quelle che sono le idee, però poi le modalità fanno sempre la differenza. Penso che anche quando il segretario era Tony D'Are sappia benissimo quale fossero anche in allora le conseguenze a dichiarazione di un certo tipo. Se qualcuno avesse dato del cretino pubblicamente a D'Are quando era segretario nazionale ci saranno state le conseguenze? Anche prima. Prima di arrivare quindi all'offesa? Sì. Prima di arrivare quindi a D'Are.